buongiorno ben ritrovati su uncinetti allo sbaraglio oggi anche se con la voce nasale raffreddata non volevo rinviare questo tutorial si tratta di una mattonella con una stella di natale all'interno io ho fatto uno sfondo azzurro molto carina semplice e nel mio caso lo ho fatto due mattonelle uguali e poi con un giro di maglia bassa ho contornato il tutto per realizzare una una presina però diciamo il modulo può essere utilizzato in svariati modi può essere la base di partenza di una copertina magari da neonato oppure un sotto un sottobicchiere un sottotazza quello che volete si avvicina il periodo di natale ci fa piacere preparare questi piccoli oggettini questi piccoli capolavori da regalare ad esempio perché no vediamo un pochino come si realizza veramente i giri di lavorazione sono pochi e quindi anche l'utilizzo dei materiali sono abbastanza limitati io l'ho fatta in cotone ma potete utilizzare qualsiasi bilato lavoro il mio cotone con un uncinetto numero 3 la prima cosa che faccio un anello magico pesco il filo all'interno di questo anello magico vado a buttare 5 catenelle le prime tre sono una maglia alta altre due devono andarmi a formare lo spazio tra una maglia alta e l'altra vedete sono qui poi faremo una due tre 4 5 6 7 7 7 maglie alte separate da una maglia da 2 catenelle in modo da avere in pratica 8 spazi quindi sono a 3 1 2 4 1 2 5 1 2 6 1 2 3 4 5 6 1 2 7 o 28 quindi andiamo a verificare di aver fatto 7 maglie alte e poi la prima che era di 3 catenelle quindi la conto come 1 2 3 4 5 6 7 8 perfetto 2 catenelle tiro il filo e vado a chiudermi nella terza delle catenelle lavorate delle cinque iniziali con una maglia bassissima adesso l'uncinetto che ok fatto questo mi sposto con una maglia bassissima nel primo spazio mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono una maglia alta 2 e 3 nello stesso spazio vado a lavorare altre 3 maglie alte una due 3 2 catenelle di separazione nello spazio di 2 catenelle 4 maglie alte quindi devo lavorare 4 maglie alte negli spazi separando poi con 2 catenelle 2 3 e 4 e si continua così per tutto il giro quindi 4 maglie alte 2 catenelle vado nel successivo devo ottenere 8 blocchetti ci vediamo tra poco ultimato il bel giro dei blocchetti di 4 maglie alte ho fatto 2 catenelle vado a chiudermi con una maglia bassissima nel primo punto disponibile che era quello di 3 catenelle adesso mi devo spostare nel primo spazio e lo faccio con delle maglie basse quindi rientro nel primo spazio devo avere quattro maglie basse sulle maglie alte sottostanti 1 2 3 e 4 adesso cosa succede che nel nello spazio delle due catenelle devo andarmi a lavorare i cristalli del fiocco di neve quindi entro nelle due catenelle faccio una maglia bassa 3 catenelle 2 e 3 maglia bassa nello spazio adesso 5 catenelle 1 2 3 4 5 nello spazio sempre maglia bassa 7 catenelle 1 2 3 4 5 6 7 maglia bassa nello spazio 5 catenelle 1 2 3 4 5 maglia bassa nello spazio questa rappresenta la punta dei cristalli quindi maglia bassa 3 catenelle maglia bassa 5 catenelle maglia bassa 7 maglia bassa 5 maglia bassa 3 loro in facciamo un altro insieme poi il lavoro è uguale mi risposto con le maglia bassa lungo le quattro ma le alte del giro precedente sono arrivata nello spazio faccio maglia bassa 3 catenelle 2 3 maglia bassa 5 catenelle 1 2 3 4 5 maglia bassa 5 catenelle maglia bassa 5 maglia bassa 5 maglia bassa 6 maglia bassa 6 maglia bassa 7 catenelle 1 2 3 4 5 maglia bassa infine 3 1 2 3 maglia bassa e si vanno a realizzare tutte le otto punte del mio fiocco nello stesso modo ci vediamo dopo una volta terminate le punte sono andata a fare le ultime quattro maglie basse non mi resta che chiudere il lavoro perché passeremo a il colore del diciamo della squadratura chiudo con una catenella di sicurezza e poi in un secondo momento andrò a intanto me lo ripasso un attimo sotto sotto la lavorazione poi dovete andare a chiudere qui il centro e poi il bordo momentaneamente vedete che il vostro fatto è un po riccioluto però non importa perché adesso quando lo andremo a bordare cambierà la forma allora non c'è bisogno di marca punti ma prendiamo partiamo da una punta qualsiasi e andiamo a verificare di aver fatto 35 753 nella diciamo nell'archetto qui dopo la punta con il nostro uncinetto ci agganciamo e dobbiamo fare delle catenelle volanti per diciamo compattare per riunire appunto per creare poi la catenella su cui andremo a lavorare faremo 3 catenelle 1 2 3 poi ci sposteremo sull'altro fiocco e nello spazio di 5 catenelle andremo a lavorare una maglia bassa altre 3 catenelle 2 3 dietro la punta la punta deve stare avanti a noi ci spostiamo nello spazio di 5 catenelle quindi dobbiamo lasciare libere le 7 catenelle nelle 5 catenelle facciamo una maglia bassa di nuovo 3 catenelle 1 2 3 ci spostiamo sull'altro fiocco sull'altra punta del fiocco saltiamo lo spazio di 3 andiamo in quello da 5 facciamo maglia bassa 3 catenelle e di nuovo la punta verso di noi quella di 7 catenelle vado a fare una maglia bassa nello spazio da 5 e devo continuare così per tutto il giro ok ci vediamo alla fine ok una volta quasi giunti al termine facciamo le ultime 3 catenelle e andiamo a chiuderci con una maglia bassissima nel punto iniziale entriamo nello spazio con un'altra maglia bassissima ci alziamo di 3 2 e 3 andiamo a formare primo angolo che sarà composto da tre maglie alte 3 catenelle 3 maglie alte 3 catenelle 2 3 3 maglie alte 2 e 3 nello spazio dove c'è la punta andremo a lavorare una prima maglia alta qui nel molto vicino alle tre che ho già filo sull'uncinetto prendo anche la punta e la inglobo nella lavorazione quindi devo andare a prendere la punta del diciamo del cristallo di neve del fiocco di neve e la catenella azzurra che c'è sotto vedete che ho due fili sull'uncinetto e faccio una maglia alta un'altra maglia alta nello spazio mi sposto nello spazio di 3 catenelle faccio la maglia 3 maglie alte 1 2 3 mi sposto dove la punta faccio una maglia alta solo comprendendo la catenella la maglia altra alta centrale deve prendere sia la punta delle 7 catenelle più l'azzurro e poi un'altra maglia alta mi sposto a fianco e faccio 3 maglie alte 3 catenelle 3 maglie alte perché vado a lavorare il mio angolo quindi 3 maglie alte 3 catenelle 2 3 3 maglie alte allora adesso vi faccio vedere in piano il lato da cos'è composto 2 e 3 ok allora appoggiamo un attimo perché perché il mio la mia mattonella dovrà in globale per ogni lato due punte ne abbiamo otto quindi se facciamo logicamente quattro lati dobbiamo mettere su ogni lato due punte quindi avremo 3 6 9 12 15 da catenella catenella dobbiamo avere 15 punti alti 3 nell'angolo 3 che inglobano una punta 3 libere qui sulla catenella azzurra 3 inglobano e 3 che poi formano l'angolo e si procede in questo modo fino alla fine ci vediamo tra poco allora una volta ultimato il primo giro di maglie alte la situazione sarà questa per squadrare di più il lavoro cosa dovete fare dovete semplicemente a vi faccio vedere solo l'angolo tanto alla fine il lavoro è molto ripetitivo mi alzo ho chiuso con una maglia bassissima nelle prime 3 catenelle lavorate faccio 3 catenelle mi sposto sulla seconda lavoro quello che ho e negli angoli faccio i miei aumenti logicamente più giri di maglie alte farete più il lavoro prenderà la forma quadrata nell'angolo quindi andrò a fare 3 maglie alte 3 catenelle 3 maglie alte 2 e 3 3 catenelle 2 e 3 e poi 3 maglie alte in questo modo appunto io ho concluso con due giri di maglie alte la mia mattonella e poi appunto ne ho fatte due per creare la mia presina e si continua così potete poi decidere voi come appunto utilizzarla il risultato finale è questo quello che ho fatto io è ancora un po tondeggiante se voi andate a mettere ancora giri di lavorazione diventerà sempre più quadrato con il mio campione mi fermo qui il risultato finale questo che vedete come detto di nuovo ve lo ripeto io ho messo due mattonelle avanti e indietro spero che il video vi sia piaciuto nonostante la mia voce raffreddata se così mi raccomando iscrivetevi al canale attivate la campanella e seguitemi per altre idee buona creatività da uncinetti allo sbaraglio